I televisori Panasonic della serie DX800 sono Smart TV dotate di pannello LED Ultra HD e risoluzione 4K. Il design all'avanguardia freestyle di Panasonic rende questi TV componenti d'arredo dalla leggerezza estrema che si inseriscono in ogni ambiente della casa conferendo eleganza ed armonia. I TV Panasonic DX800 integrano un processore 4K Studio Master HCX che unito alla qualità dello schermo cinema permettono una resa d'immagine superiore ad ogni altro TV Ultra HD. Local Diming assicura neri profondi e sfumature dettagliate mentre la tecnologia HDR vi trasporterà in una nuova dimensione di colore. I televisori di questa serie sono dotati della piattaforma My Home Screen 2.0 basata sul sistema operativo Firefox. Tante le funzioni tra le principali spicca MyStream con contenuti on demand provenienti dal web e da file multimediali presenti sui vostri dispositivi. Ma non è finita, sarà anche possibile integrare i TV DX800 con un sistema di domotica su rete domestica in modo da poter gestire e controllare il funzionamento del dispositivo in maniera semplice ed automatizzata. Panasonic DX800 è un dispositivo all'avanguardia che si inserisce tra i top di gamma adatto a chi ama l'intrattenimento di alto livello e non vuole rinunciare alla comodità dell'esperienza cinematografica direttamente dal divano di casa.